Citec Implant è un'azienda produttrice italiana che distribuisce in circa 40 paesi del mondo. Il successo di Citec è dovuto all'alta qualità dei suoi prodotti e il concetto di raggiungimento di successo estetico nell'implantologia. Il punto di forza dell'azienda, quindi di Citec, è l'organizzazione di corsi teorico-pratici, quindi l'inseguimento della cultura e l'insegnamento di nuove tecniche per odontoiatri. Questi corsi sono rivolti sia ad odontoiatri con poca esperienza nell'ambito dell'implantologia, poi anche ad odontoiatri con una certa esperienza che però vogliono migliorare diverse nuove tecniche chirurgiche. Per ciò che riguarda l'organizzazione di questi corsi, Citec Implant si avvale della collaborazione di aziende specializzate, in particolare in Italia collaboriamo con la DG Academy, che è un'azienda dislocata in Sicilia, con cui vengono organizzate due o tre corsi l'anno. Questi corsi teorico-pratici vengono eseguiti direttamente su pazienti, gli odontoiatri che partecipano vengono seguiti da tutors di alta professionalità ed esperienza. I tutors insegnano ai partecipanti l'utilizzo corretto dei prodotti Citec Implant fino al raggiungimento della massima soddisfazione del paziente.